Ciao a tutti, oggi siamo vicino a Castelletto sulla strada per andare a Castello di Seravalle che è una località che abbiamo già visto in volo qualche tempo fa con il Mavic Mini. Lungo la strada c'è una chiesa, è la chiesa di Santa Polinare, la vedete alle mie spalle ed è una specie di cattedrale nel deserto, attorno sono tutti campi coltivati, Castelletto è un po' arretrato rispetto alla chiesa e la particolarità è che è veramente molto grande, è un campanile veramente molto alto, fu voluta nel 1321 addirittura, fu costruita in quel periodo e poi ebbe un restauro intorno a metà del Settecento, gli interni sono infatti quasi tutti settecenteschi e la chiesa è veramente affascinante, oggi è sfortunatamente chiusa quindi la possiamo ammirare solo dall'esterno. Ci ho volato attorno con il paro Tanafi, potrete ammirare il campanile, la struttura bella massiccia romanica della chiesa e strutture attorno tra cui anche si intravede qualcosa di crollato durante il periodo del terremoto del 2012. Che altro posso dire? Ha origini bizantine, però diciamo che l'ultimo restauro è stato fatto con scarsezza di mezzi e quindi l'ha resa un pochettino più banalotta. Ad ogni modo è davvero una bella struttura anche perché si sviluppa in mezzo ai campi e di conseguenza spicca veramente anche da lontano. Lo vedrete dalle immagini subito dopo la sigla. Grazie a tutti. 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 Se volete continuare a seguirmi allora vi consiglio di iscrivervi ed eventualmente cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Per il resto io vi ringrazio molto di essere arrivati fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao.